Darjen Amico è ritornato sul palco di Sanremo 2024, dopo essere stato presentato da Diodato, che si è detto solidale con le opinioni espresse ieri dal cantautore milanese, Darjen è ritornato sull'argomento, sempre con la sua ironia. Ho letto qualche parere sulla mia esternazione quando ho letto Politico vicino al mio nome e mi stavo sentendo male. Non volevo essere politico, ho fatto tante cazzà nella vita e ho compiuto tanti peccati, anche gravi, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica. Prima di abbandonare il palco, tra le risate e gli applausi del pubblico, ha concluso ero semplicemente guidato dall'amore e dalle sensazioni che abbiamo in comune con gli altri e su quelle voglio concentrarmi. Ma cosa aveva detto durante la prima serata? Il cantante aveva denunciato, grazie per questa possibilità di cantare questo brano che dedico alla mia cuginetta Marta, che adesso è a studiare a Malta e ha avuto questa grande fortuna, non tutti i bambini hanno questa fortuna. Nel mar Mediterraneo, in questo momento, ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua e cibo. Il nostro silenzio è corresponsabilità, la storia, Dio, non accettano la scena muta, cessate il fuoco. Grazie a tutti.